La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato i tre presunti autori di una rapina avvenuta il 13 settembre dello scorso anno ai danni di due guardie giurate impiegate nelle operazioni di prelevo di denaro contante dal cavo di una banca del centro della città. I provvedimenti sono stati eseguiti con la collaborazione dei commissariati di Gioia Tauro, Palmi e Polistena in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura Regina. I tre, rispettivamente di 50, 44 e 25 anni e tutti con precedenti penali e di polizia, sono accusati di rapina. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile Regina, i presunti autori del colpo, sotto minaccia di un'arma, sarebbero riusciti a farsi consegnare un bussolotto all'interno del quale era custodita la somma di circa 60.000 euro e la pistola di ordinanza di uno dei due vigilantes. I rapinatori, inoltre, secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, hanno atteso l'arrivo del furgone blindato dell'Agenzia di Sicurezza e dopo aver notato l'ingresso delle guardie giurate all'interno della banca, si sono appostati all'interno del Bancomat, simulando un'operazione. Dopo aver atteso l'uscita dal cavo della guardia giurata che portava con sé il denaro contante e dopo averla immobilizzata, gli hanno sottratto il denaro e la pistola d'ordinanza, dandosi poi alla fuga nonostante il tentativo di inseguimento degli stessi vigilantes. La ricostruzione delle fasi della rapina e l'individuazione dei presunti irresponsabili è stata resa possibile attraverso un lavoro di analisi delle immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza cittadini, a cui è seguita un'attività di intercettazione telefonica. In particolare da queste attività sono emersi elementi che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reato a carico sia dei due autori materiali che del loro complice, il quale, pur non avendo partecipato materialmente all'aggressione alla guardia giurata, avrebbe agevolato il compimento della rapina svolgendo il ruolo di palo e agevolando la fuga dei loro complici.